Papà del gnocco, principere boano, dio dell'oro, duca della pignatta, potremmo continuare a lungo elencando le maschere tradizionali del carnevale veronese, quelle che anche Telepace con le sue telecamere ha fatto conoscere in mezzo mondo, trasmettendo la tradizionale sfilata del venerdì grasso, il venerdì gnocolar per dirla alla veronese, ma anche ad un veronese doc tante informazioni e conoscenze oggi mancano. E allora ci ha pensato Andrea Toffaletti, danni direttore e motore del sito in dialetto veronese l'Arena 2000, a colmare la lacuna, con un libro, un altro, un'agine pubblicazione, semplice da consultare e corredata da foto, alcune delle quali inedite. Il libro nasce dalla passione per le tradizioni veronesi e per la storia millenaria della città di Verona. Il carnevale veronese nasce nel 1531, istituito da Tommaso Davico, mentre in verità le origini si perdono nella notte dei tempi con Cerere e Demetria nei riti pagani, nei tempi dei baccanali. Ecco, baccanali del gnocco, perché in realtà c'era proprio un senso per il venerdì gnoccolare, lo ricordiamo? Sì, il senso del venerdì gnoccolare era che comunque Tommaso Davico, come abbiamo detto, ha istituito questo carnevale e praticamente ha dato come l'ascito nel suo testamento di dispensare acqua e farina ai poveri per appunto creare questa pietanza. Quindi poter mangiare ha pensato ai poveri. Esattamente, Tommaso Davico è stato uno dei benefattori della città di Verona. I testi sono curati da Andrea Toffaletti, forte della sua esperienza decennale alla segreteria del baccanal del gnocco. Le foto sono scattate dal fratello Stefano. Interessanti in particolare alcune cartoline che risalgono al 1800, quando la sfilata del carnevale era una manifestazione incredibile. Cosa troviamo nel libro? Ci sono tante particolarità e anche tante foto che non erano mai state pubblicate prima. Esattamente, il libro Baccanalia è un'immersione nelle sfilate ottocentesche, una dei particolari sulle stampe di Verona, dunque stampe, documenti e cartolini inedite mai pubblicati finora a partire dal 1750. Cosa avete scoperto di originale? Qualcosa che non pensavate di poter trovare? Tanta documentazione, tra cui anche delle lettere e di invito ai vari potestà che si sono succeduti a Verona. La soddisfazione più bella della pubblicazione di questo libro? La soddisfazione è vedere che molti veronesi all'estero hanno già letto questo libro a pin a pin a pin a pin a uscito.